Ingredienti Ingredienti Una mela O rossa o gialla Pasta sfoglia rettangolare Rettangolare Io ho preso questa qua Senza grassi Rettangolare E marmellata Io ho Vabbè ormai è finita Perché me l'hanno mangiata tutta Questa qua è la marmellata che ho fatto io E avete già visto Nella ricetta Marmellata fatta in casa Questa era la fragola Ma in una settimana L'hanno fatta fuori Per cui non so per quanto Riuscirò A farmela bastare Questi sono I tre ingredienti Che servono Per fare il dolce Iniziamo la preparazione Allora Prendete la sfoglia La dobbiamo Arrotolare Ovviamente io con una mano Non è che posso La rotoliamo Così Mi sono dimenticata Di dirvi Che serve anche Il limone E un po' di zucchero Allora Dopo aver preso La sfoglia E l'avete Diciamo Messa così Dovete Tagliarla La dobbiamo fare Praticamente In sei Cioè Un taglio e mezzo E un taglio Diciamo Uno e mezzo E una Praticamente Perfetto Prendete Drittissima Così Infatti ho sbagliato Allora Ho sbagliato Cioè Dovete farlo così Ma Mi sono regolata Malissimo Infatti Dovo andare un po' più giù Perché adesso Questi qua Diventano un po' più grandi E questi Diventano un po' più piccoli Conco Vabbè Fa niente Dovete tagliarlo così Sempre Fare Però Giusta La riga E non storta Come ho fatto io Per cui Già questa qua Non posso Correggerla Comunque Mettiamo La marmellata Prima di tutto Facciamo due tagli Qui Qui Così almeno Devo fare due tagli Perché tanto poi la pieghiamo E questa Così Così Ok Mettiamo la marmellata Quella che mi rimane Ovviamente Allora Mettete la marmellata Così Ovviamente Un cucchiaino Poco Perché Non ci vuole Diciamo Così tanto Poi Poi Mettiamo Ovviamente Le mele Già tagliate Così Tagliata E Tagliata E Sbucciata Io ne metto due Perché ovviamente La marmellata È pochissima Perché avevo questa Comunque Potete metterne Ad esempio Tre fette Tipo così E Scusate Non ho rinquadrato Tipo così Poi Faccio Anche con questa Qui Vabbè Metto L'ultima Che Che ho Tanto per coprire Il buco Cioè praticamente Dobbiamo coprire Il buco Della marmellata Dopo aver fatto Questo Mettiamo Un po' Di limone Un po' Sinso Questo L'ucchero Poco E adesso E adesso Ripidiamo Allora Dovete Prenderla Dove abbiamo Fatto ovviamente Le strisce Io con una mano Ripeto Non riesco E dovete Chiuderla Così Dovete chiuderla Così Poi siccome ci sono I bordi Dovete chiudere Anche i bordi Chiudeteli bene Perché sennò Fuoriesce La marmellata Per cui Chiudiamo Tutti i bordi Io Li chiudo Girata Cioè Li giro Tipo così Però voi potete Chiudere Scusate Scusate per il casino Ma non la smettano Di fare Bordello Allora Dovete chiudere E ovviamente Diventa così Praticamente Per farvi capire meglio Io ne ho fatto un altro Questo è venuto Un po' Decente A confronto Di quella Di questo qua Però Dovete Ovviamente Fare così E vengono così Questi sono troppo grandi Perché ho sbagliato Le misure Per tagliare il bordo E adesso Li mettiamo Nel forno Per cui Sui 15-20 minuti Dipende dal forno Guardate se sono Diciamo Dorate E poi le tirate via Ci vediamo dopo Alla cottura Finito Un po' di zucchero Velo E fatto Questo è il risultato Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito